Ci sono luoghi e immagini e persone che ci raccontano la loro storia in un modo così intenso e toccante da riuscire a percepire l'emozione e il dolore anche a distanza di tanti anni. A Sant'Anne, nei luoghi degli ecidi più efferati, il tempo non si è fermato, ma dai volti di chi ha vissuto o anche soltanto visitato nel passato e nel presente questo territorio, possiamo imparare la più grande lezione di vita che la storia ci consegna. Grazie a tutti. Grazie a tutti.